Abbiamo ancora tante graduatorie da scorrere di persone che ormai lavorano da tanto tempo e quindi queste persone scelgono giustamente se arrivare nelle nuove proposte di lavoro, accettare le nuove proposte di lavoro o meno. Per me riusciremo con i nuovi concorsi, con i ragazzi che sono specializzati adesso, a risolvere in parte questi problemi. Dico in parte perché alcune specialità sono carenti, anestesisti, piuttosto che cardiologi, piuttosto che anche chirurghi. La patologia neonatale ha delle difficoltà secondo me momentanee dovute in parte per carenza soprattutto di personale infermieristico. Dico carenza non in termini assoluti ma in termini con elevate percentuali di personale con limitazioni oppure con 104. Esiste anche un problema di macchinari che sono obsoleti, stiamo provvedendo ad acquistarne dei nuovi. Comunque mi dicevano che entro poco tempo arriverà qualche infermiere proveniente da altre patologie di Natale, da Bologna per esempio, che potrebbero rinforzare le nostre strutture. è una condizione necessaria per far funzionare bene il reparto di ostetricia e di pediatria stesso.